L'incidente è avvenuto ieri sera poco prima delle 21 e ancora nel quartiere San Leonardo dove risiedeva Ivo Pizzetti, il nonno di 61 anni travolto in bicicletta con il nipotino appena il giorno prima a barriera Garibaldi e deceduto dopo 24 ore di agonia in rianimazione. Stavolta si è trattato di un tremendo impatto tra un'auto e una moto. Tutto è accaduto in via Trento dove stava transitando un Trentonenne a bordo di una moto Buell. Arrivato in prossimità dell'intersezione con via Alessandria è piombato contro una BMW 530 condotta da un 23enne. Le cause dell'incidente dovranno stabilirle gli agenti della municipale. Il centauro che procedeva verso il centro cittadino è finito contro l'auto e poi uno spaventoso volo di 40 metri. Ai soccorritori le sue condizioni sono apparse gravissime. Il Trentunenne è stato trasportato all'ospedale Maggiore e curato per tutta la notte nell'area dei Codici Rossi del pronto soccorso. Nelle ultime ore il quadro clinico è per fortuna migliorato e ora il motociclista si trova ricoverato nel reparto di ortopedia. Ha riportato varie fratture, per fortuna non c'è pericolo di vita. E ha invece suscitato una grandissima emozione la morte di Ivo Pizzetti, il nonno materno del bimbo che insieme a lui era a bordo della bicicletta travolta da un'auto giovedì mattina in prossimità dell'incrocio tra via Garibaldi e via Lementana. Il 61enne aveva lavorato per una vita in ghiaia ed era conosciuto e stimato da tantissime persone. Dopo il decesso sono stati donati gli organi. Il nipotino di quasi due anni sta meglio ed è stato dimesso dal reparto di pediatria.